Golosità in pasticceria e tra poco, anzi subito, vedete che bontà ci sono, che golosità in questi tavoli. Con noi abbiamo il nostro esperto appunto di pasticceria, che è Leonardo, la pasticceria Leonardo, che si trova in via Carigna d'Arezzo e parliamo di quello che effettivamente noi esseri umani non potremmo fare a meno, i dolci. Quindi il dolce è una cosa unica, quindi tu sei pasticcere e tutti i giorni sforni delle bontà, che si parte dai cornetti, dai dolci. Parlami un po' della tua pasticceria, come la vedi. Sono in questo settore da una ventina di anni, quindi ho cominciato abbastanza presto e con sacrificio e passione comunque siamo riusciti a creare un'attività che riusciamo a sfornare una gamma di riprodotti che ci dà veramente tanta soddisfazione. Perché qui si parte dal mattino con il cornetto, che è un classico insomma che troviamo nella nostra pasticceria, però si va anche a questi che sono i... Sono le cose un pochino più particolari, insomma che sono i muffin. Che ci sono voi, questi arrivano dal mondo anglosassone, no? Prendiamo spunto un po' da tutto, insomma cerchiamo di restare aggiornati su tutto quello che il cliente poi richiede. Cerchiamo di fare insomma un po' di tutto quello che... Perché se io vado a vedere la pasticceria, giustamente i prodotti che devono essere di ottima qualità, ma sono sempre farina, zucchero, uova, burro e sono questi gli ingredienti, no? Sì, sono sicuramente il cuore del prodotto. Capite? Cioè con quattro ingredienti cosa un pasticcero, un esperto di pasticceria può creare. Perché poi si contamina anche la pasticceria, perché se vedo questo, questo è un babà che fa parte della tradizione napoletana. Napoletana, esatto, sì. Quindi è anche un viaggio poi che uno fa per imparare a fare determinati dolci, no? Certo, certo. Appunto, ecco, cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze, perché ovviamente anche questi prodotti molto particolari vengono fatti insomma con una scuola dietro comunque che... Ecco, quanto aggiornamento ci sta poi dietro a un pasticcere che... Veramente, sì. Ecco, veramente, veramente molti, insomma, ecco, quindi oggi con i social riusciamo sicuramente ad arrivare prima al punto, insomma, ecco, a capire comunque le tendenze e quello che va che non va. Perché anche qui c'è, per dire, il gatto, ora io non posso toccarlo perché lo sciuperei, ma il gatto che, voglio dire, si è trasformato, perché c'è la panna, la tradizione vuole, la crema, no? Esatto, sì. Senti, la stagionalità, eh, aspetta che te lo faccio vedere, è qua, guarda, giustamente, questo bianco, vedete? Questo è il gatto che fondamentalmente si è trasformato ed è diventato questo, si è diventato con la panna, perché poi è Stalino, ormai l'ho toccato che se no cadeva, che poi... ma volevo dire, esiste la stagionalità in pasticceria? Ma no, onestamente ci viene richiesto un po' tutto in tutto il periodo dell'anno. Però voglio, il panettone a agosto non lo fai, io penso. Il panettone ovviamente no. Ecco, perché c'è da dire anche questo, che effettivamente ci sono delle ritualità che anche in pasticceria si fanno, quindi il panettone, se io vado nella grande distribuzione, già lo trovo. Adesso tu non ce l'hai? Non ce l'ho, infatti appunto noi cerchiamo proprio di arrivare nel momento clou del periodo, insomma, ecco, quindi diciamo noi negli ultimi giorni di novembre poi cominceremo con tutta la produzione, poi che sia dal panettone al panforte al torrone. Perché non è che fa male il dolce, bisogna vedere le materie prime con cui sono fatte, poi qui abbiamo la scacciata anche la pizza perché non può mai mancare anche questo. Però un panettone per dire artigianale, cioè non è che costa 5 euro, 3 euro, 4 euro. Al chilo costa molto di più perché effettivamente c'è un'artigianalità, è fatto a male con prodotti di ottima qualità. Esatto, sì. Però c'è un aspetto che non poteva, c'è, perché c'è, perché è richiesto, il cake design, le torte del cake design. Ecco, anche questo voi siete specializzati. Sì, esatto. Guardate che belle. Facciamo questi lavori ormai da diversi anni, insomma anche qui ci siamo un po' aggiornati con le varie tecniche. Qui però il Natale l'hai visto, il Rosso, vedi il Vavo Natale. Sì, diciamo, per l'occasione abbiamo creato questa qui natalizia. Sì, la clientela devo dire che è sempre molto più esigente su questo tipo di torte, però insomma noi cerchiamo di soddisfare il tutto. Sì, perché oltre che fare le torte a piani, che ne so, viene la borsettina, vengono i comprianni dei bambini. I bambini sono ormai, ecco, sono la nostra forza, diciamo, perché comunque sono quelli in cui veramente ci vengono richieste cose. Ma dentro, perché se io penso al cake design, penso alle torte appunto da dove arriva il mondo anglosassone, dentro non si mangia. Voi però riuscite anche a personalizzare con i gusti delle persone che ve lo richiedono, no? Esatto, noi ci chiedono sicuramente consigli, ecco, diciamo noi su questa cosa, ecco, ho insistito molto sul lavorare un dolce in pasta di zucchero, con una pasta di zucchero sicuramente molto sottile, proprio che eviti di contaminare il gusto del dolce alla fine, perché sennò sarebbe immangiabile. Perché voglio dire, il dolce richiama il sapore dolce e quando si mangia una pasticceria artigianale non lascia solo il sapore del dolce, ma si sente il profumo e si sente anche il sapore, io penso, della bacca di vaniglia, della vaniglia. Si sente il profumo della crema che è fatta con le uova e che ha quel sentore, tu metti il limone, non lo so, con che cosa l'arricchisce questa crema? Ma sai, questi sono poi piccoli segreti. Ecco, lo sapevo, lo sapevo, non te la devo fare, però insomma, per dire, si sentono tanti piccoli sapori, si sentono tanti piccoli sentori, che non si sente poi nella pasticceria quella industriale, insomma, no? Quella industriale, sicuramente, sì. Poi, guardate qua, questa, 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 poi, questo è il dolce a me preferito, la crostata di frutta, però guardate, ce n'è un altro, che da noi si chiamano i bomboloni, questo è stagionale, probabilmente questa cosa non si fa, il bombolone, aspetta che li prendo in mano, il bombolone e questa è praticamente, la chiamate voi? La ciambella, la classica ciambella. Guardate, questo a merenda, la classica bomba, come viene chiamata, è immancabile adesso. È immancabile, anche se comunque, devo dire, che la tendenza è un po' cambiata, perché oggi ce la richiedono anche al mattino presto, quindi, 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 dobbiamo incrementare un po'. Però c'è anche la pasticceria secca, da non dimenticare, e i famosi, cioè, questi, effettivamente, sono quei, i cantucci, li fai duri duri o li fai un po' morbidosi, perché è cambiato anche il gusto delle persone, vero? Ma, no, onestamente, non ho mai trovato, ecco, una clientela. Però, insomma, sono belli, quando fanno il croc. Sono belli croccanti, però, ecco, non più di tanto, insomma, ecco, diciamo. Ecco, no, perché c'è qualcuno che non lo mette. Quindi, anche pasticceria artigianale con prodotti particolari. Esatto, sì, 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 sì. Allora, qual è il dolce che piace di più a Leonardo? Dai, forza, ora ti devi, ti devi... Il dolce che piace più a me. Perché non è vero che non mangiano i dolci che fai dolci, ne scordate, però, eh? Io sono un... Il dolce preferito tuo. Un super goloso e partirei da qui e finirei veramente laggiù. Quindi non c'è niente un particolare. Non esiste un qualcosa di specifico. Io lo stesso, guarda, io lo stesso tutti. Allora, io ringrazio il nostro esperto di pasticceria Leonardo, che poi ha il suo laboratorio, la sua pasticceria in Bia Chiarina di Arezzo, perché la pasticceria di qualità è fatta con tanta passione, ma anche con prodotti di altissima qualità. Allora, guarda, 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 guarda